Ciao ragazzi, vi faccio vedere un segreto nell'appartamento, quello delle bici. Eccoci qua. Lo metto chiuso perché così le persone capiscono che io non ci sono. È così difficile per me. Ho dei problemi alle mani, non lo so. Andiamo dentro. Ah no, Emma, si ce l'ha. Ecco qua. Praticamente dove devi andare? Qua? Qua se non sbaglio, giusto? Non qua, perfetto. Devi andare qua. Poi vai qua. Vai contro questo specchio. Ed ecco la cassaforte. Ciao! 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 Ciao!